Cari amici di SetteCervelli.com Benvenuti ad un'altra fantasmagorica puntata di Sette Quark Oggi parleremo di uno degli animaletti più permalosi, stronzi e sfortunati del mondo La bruga La bruga è più permalosa di un'antenna di una lumecca Basta che t'accosti, anche per scherzo, che lì appena sente a Zofie Sar chiude tutta con quel ciuffo di peli mancosì e stessi a guardè in mezzo alle cosce Non solo La bruga è pezza di merda dentro Si per sbaglio las fiori, e dico las fiori, te vengono 47.000 bolle tale mene, che per mandarle via, te vogliono due tubetti di foille Alla fine del giochino, comunque, la bruga fa una affinaccia O diventa farfalla, che anche se delusso campa mezza giornata, o peggio me sento, i tirano quelli della comunità montana su ple piante che s'arria, come si tenissero a spare a chiesa Dopo tutto sto ragionamento, me viene solo una domanda Ma la bruga t'ha che serve? Ma ne che c'avrà che feco la chiave a brugola? Io vo' a letto che è meglio, arvedecce t'ha tutti La prossima volta, vi parleremo, del billo casareccio, ovvero quello che fa glu glu glu, glu, glu glu, glu glu, glu glu Anche questo l'animele, i versi, ne fa tanti, ma quanto è brutto signore mio aiutezze Grazie